Buongiorno a tutti, io sono Cason Paolo, sono il titolare dell'azienda Casa Cason. Noi siamo dei produttori di insaccati al naturale sale e pepe. Principalmente abbiamo un allevamento dove alleviamo i nostri maiali, per il 70% l'alimentazione mangiamo i nostri cereali e noi li trasformiamo usando solo il sale e il pepe e la tradizione di una volta, tempo. Qui noi al formaggio in villa abbiamo portato il nostro prodotto di punta che è il salame al Vecchio Gio, in onore Vecchio Gio è il nome di nostro papà Giovanni, gli abbiamo dato un prodotto un nome suo ed è il particolare perché all'interno oltre ad avere il sale e il pepe è anche la Santoreggia, una spezia della famiglia di Itini che noi usiamo particolarmente quella dell'alto piano di Asiago perché abbiamo creato una sinergia con il nostro amico che è una malga che ce la coltiva e ce la da sicca dove la mettiamo all'interno del prodotto. La Santoreggia è una spezia molto importante, ricca di profumi e aromi ma soprattutto di oli essenziali che rende leggermente più digeribile il prodotto. Questo gli dà una nota di bosco e di fieno al nostro prodotto che è già particolarmente saporito di suo.